Ti aspetti un Inter Camari che per certi versi possa essere distratta o totalmente concentrata sulla partita? E anche considerata la tua esperienza da giocatore, come si scende in campo in una partita in cui comunque non dipendi solo da te stesso? Per l'Inter questa è una gara importante, lo stadio è sold out, ma tutto dipende dal risultato del Barcellona, anche se guarderanno a se stessi. Se guarderanno prima in Barcellona e guarderanno anche se stessi, hanno bisogno di avere un risultato, altrimenti è l'Europa League per l'Inter. Buongiorno Marc, ben tornato. Questa è una città in un stadio che hai lasciato di lacrime. Ti chiedo che effetto fa tornare qui e se dal punto di vista personale per te lo vivi quasi come fosse un derby? La scuola a Milano non è facile. L'addio al Milan non è stato facile. Io volevo tornare al PSV perché loro volevano rinnovare. È stata una scelta giusta, inutile ritornarci. Noi siamo il PSV, ma è bello tornare qui. Quindi sì, questa partita potrebbe essere considerata un derby, ma lo sarà soltanto per me. Questa partita è importante. Sarà l'ultima in Champions e dobbiamo vedere quello che possiamo fare. Abbiamo fatto tanto per arrivare qui. Vogliamo continuare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.